Ciao ragazzi ecco voi un nuovo video, in questo video vi farò vedere un estratto, l'estratto si ricava praticamente dall'estrattore, vi volevo fare una piccola premessa, cos'è l'estrattore? L'estrattore diciamo che è il concorrente della centrifuga, però quali sono le differenze? L'estrattore ha una velocità inferiore alla centrifuga, quindi sono più silenziosi, estraggono una maggior quantità di succo, quindi hanno anche un meno scarto rispetto alla centrifuga, che vi accorgerete se lo utilizzerete, che è veramente molto molto utile questa cosa, e poi altrettutto estraggono anche le verdura foglia, si puliscono molto velocemente e molti dicono che gli estrattori sono più ricchi di vitamine e enzime rispetto alle centrifughe, ma non ci sono comunque studi al merito, l'unico punto molto molto dolente dell'estrattore che costa veramente tanto, perché questo l'abbiamo pagato 400€, quindi è veramente tantissimo, però l'abbiamo diviso in due, lo voleva tutti i costi e quindi abbiamo fatto comunque questo sforzo. Tenete anche conto che adesso si trovano tantissime offerte e promozioni in giro e riuscirete a pagarlo veramente molto bene, anche perché adesso mi viene il dubbio che io non abbia pagato 400€, 400€ era quello di listino, perché io mi ricordo un 3,40€. Comunque bando alle ciance, passiamo al video stesso. Vi farò vedere come estrarre un succo di mele e ananas, perché l'estrattore con le mele a me piace tantissimo e lo faccio veramente molto molto spesso. State vedendo ora io che lo bevo così cazzeggiando per farvi vedere una parte un po' carina e niente, adesso vi faccio vedere parte pezzo per pezzo cosa ho fatto. Io ho preso le mele e le ho divise a metà. Dato che queste mele verranno poi lo scarto dell'estrattore, lo utilizzeremo per un'altra ricetta, dobbiamo togliere comunque la parte che non mangeremo mai, quindi la parte interna e se no nella realtà se lo scarto poi andate a buttarlo, perché comunque non sempre si utilizza, dipende veramente anche dalle giornate. Se lo andate a buttare non dovete neanche fare questo sforzo, lo tagliate a fettine abbastanza piccole che possono entrare nel boccale. Tenete presente che per fare un estratto la frutta che utilizzerete o la verdura che utilizzerete non è poca, quindi da una parte ha un costo elevato nel senso di spreco, tra virgolette, di frutta perché ne usiamo tantissima. Dall'altra comunque se poi riutilizzate gli scarti non ci sono grossi problemi. Io ho preso un ananas che come vedete stava andando veramente molto male, quindi ho tolto le parti nere, le ho tolto le parti brutte e poi come vi dicevo utilizzando poi gli scarti tolgo bene anche la buccia. Tenete presente che gli scarti hanno una parte povera, quindi non sarà ricca di praticamente niente, è utile fare delle ricette alternative solo per non sprecare, però nella realtà la parte più importante è dentro il succo, quindi io ammetto che tantissime volte comunque gli scarti li butto. In rete troverete tante ricette per riutilizzarle, io poi ve ne posterò comunque una ideale e idonea per questo periodo. Anche per l'ananas tagliamo delle fettine non troppo grandi perché appunto ci devono passare dentro il boccale, io vi consiglio di tagliare tutta la frutta e poi passare a estrarla. C'è anche chi la taglia, gli metto un po' di limone, poi la metto in frigorifero e poi fa l'estratto la mattina. Scegliete un attimino voi come siete comunque più comode. L'ho messa in quel recipiente grande, almeno una volta che vado davanti all'estratto posso farlo tutto. L'estratto come avete visto vi metto qua sotto il box informazione nel link dove l'ho acquistato, ho letto diverse recensioni e ne parlavano molto bene, quindi ho deciso di acquistarlo. Come vedete è facilissimo perché mettete la frutta o la verdura che sia, poi c'è qualcosa per spingerla ancora più a fondo e inizia a uscire il succo. A destra ci sarà il succo, a sinistra lo scarto. Lo scarto dell'estratto non è umido, è molto asciutto e infatti mi è piaciuta molto questa cosa perché avevo paura che fosse un po' liquidino, avesse anche un po' dell'acquetta ed era anche poi scomodo metterlo nel sacchetto dell'umido. Invece nella realtà è ottimo questa cosa, io ho utilizzato tra 4 mele e metanas praticamente per riempire questo boccale, almeno lo potete bere anche più volte, infatti di solito lo bevo sia io che Pietro. Poi utilizzo sempre lo zenzero, non avevo quello classico, ho utilizzato la polvere che va bene lo stesso. Dopodiché cosa faccio io? Faccio anche un'altra cosa, ci metto anche dell'acqua per diluirlo leggermente e pulire anche in parte già l'estratto interno per via delle rimanenze che rimangono all'interno e ci metto comunque anche del ghiaccio perché ovviamente è estate quindi è più buono se assaggiare appunto il tutto più fresco. Nella realtà potete bere il succo subito o alcuni consigliano di non farlo, di non metterlo in frigorifero, io mi trovo benissimo anche a metterlo in frigorifero e poi lo mescolo un attimino sempre prima di berlo, mi trovo da dio, lo faccio molto spesso la sera, cosiddetto meno poi lo beviamo a colazione. Inutile dirvi che è super super buono, sono veramente felicissima di questo acquisto, lo uso tantissimo per fare appunto i succhi di ogni forma, di ogni natura e nella maggior parte dei casi uso le miele perché proprio a noi i succhi delle miele piacciono veramente tantissimo, infatti come vedete il resto lo sto coprendo e lo metto comunque in frigorifero, ovviamente in un giorno poi va bevuto. Questo è il risultato finale, spero tanto che questa cosa vi piaccia, fatemi sapere se anche voi ne siete a conoscenza, l'utilizzate o cosa ne pensate. Un grosso bacio a tutti, ciao!